La Commissione europea promuove la manovra italiana per quanto riguarda la prudenza nei conti e nell'aumento della spesa, con la raccomandazione di tarare gli aiuti contro il caro energia, limitandoli alle famiglie più vulnerabili e alle imprese esposte e ritirandoli man mano che si abbassano i prezzi dell'energia. Tuttavia, Bruxelles boccia il documento programmatico di bilancio presentato dall'Italia per quanto riguarda la lotta all'evasione, con preciso riferimento ai pagamenti elettronici e al tetto del contante e per quanto riguarda l'eccessiva spesa per le pensioni. Io non considero l'Europa un club esclusivo con i buoni e belli e gli altri brutti e cattivi che devono essere spinti fuori, lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella replica al dibattito in Senato e in vista del Consiglio europeo. La Premier si è soffermata poi sulla questione energia. Non ci sono purtroppo novità sostanziali, la trattativa è ancora in corso. Noi domani porteremo la questione sul tavolo del Consiglio europeo, ha detto Giorgia Meloni, sottolineando che l'incapacità dell'Unione di trovare una soluzione efficace in tempi rapidi è un errore. Sul caso del caccia Eurofighter precipitato ieri sera nei pressi dell'aeroporto di Trapani, gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le cause. Diverse le ipotesi al vaglio, da un'esplosione in volo al fenomeno del vento improvviso che può schiacciare verso il suolo un velivolo in atterraggio, fino ad un malore del pilota Fabio Antonio Altruda. Il 33enne originario di Caserta, i cui resti sono stati trovati nella notte, a poca distanza dal velivolo, potrebbe essere anche rimasto ai comandi del suo caccia fino all'ultimo per evitare l'impatto in zone abitate. Quattro ragazze italiane sono bloccate in un villaggio rurale del Perù da oltre 24 ore su un autobus col quale cercavano di raggiungere la vicina Bolivia. Il bus su cui viaggiavano è fermo a causa di una protesta politica, dopo il caos che si è venuto a creare nel paese a seguito della destituzione del presidente Castillo. Tre delle giovani tra i 21 e i 33 anni sono romagnole e una di Firenze. L'ambasciata italiana in Lima si è già mobilitata. Mosca non intende concedere alcuna tregua di Natale e avverte i sistemi di difesa aerea americana Patriot diventeranno obiettivi legittimi se saranno forniti a Kiev. Intanto i russi hanno lanciato un nuovo attacco alla capitale ucraina con droni di fabbricazione iraniana e due edifici amministrativi sono rimasti danneggiati, mentre Zelensky ha fatto sapere che sono stati abbattuti dalle difese aeree tutti i 13 droni lanciati. In Iran alcuni membri dei media occidentali che avevano ripreso video e immagini di diverse situazioni sono stati arrestati. Lo hanno reso noto le guardie della rivoluzione. Le persone arrestate che si trovano a Pardis ad est di Tehran avevano il sostegno finanziario e di intelligence dei media occidentali, si legge in una nota. Durante le proteste in corso da tre mesi nel paese, diverse foto e riprese sono state inviate ai social media e alle tv all'estero. Le autorità iraniane inoltre hanno inflitto una condanna a 28 anni di prigione all'operatore umanitario belga Olivier Van der Castelle.